Dai No Bene ragazzi, benvenuti nel mio canale Come sempre Trick qui parla oggi Siamo qui, tornati sul mio canale E passerò 24 ore Dentro una vasca Da bagno piena di coca cola Non chiedetemi il perché di queste pazzie Però vi piacciono, so che vi piacciono un casino E quindi continuerò a farle per tutta l'estate Anzi consigliatemi sotto nei commenti E soprattutto secondo voi scrivete Appunto nei commenti cosa mi potrebbe accadere Se sto 24 ore con la coca cola Diciamo addosso nel corpo E quindi scrivete nei commenti Secondo me succede bla 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 Secondo me muori Se sto pubblicando il video vuol dire che ancora sono vi Vivo So che sono soltanto le 4 e 22 Ma mi ero totalmente scordato di dirvi Dato che farò un acquisto qui durante il video Che ho trovato una carta prepagata che è fighissima E totalmente gratuita E potete farla soprattutto dai 12 anni in su Potete comprare su Amazon Non credi fortnite Di tutto potete fare con questa carta Che si chiama Hype E in più ti da 10 euro di bonus Di benvenuto Comunque se volete informarmi meglio Vi lascio un video e una guida in descrizione Mi raccomando Passateci e nulla Vi lascio al video Vi ricordo di passare sempre su Instagram Prima di iniziare Ovviamente perché è l'unico social che ho Sto facendo tantissimi contest Per vincere magliette Bla 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 Tutte queste cose qua Per avere il mio numero di telefono Un bordello di cose Quindi GST Di RK E detto ciò Noi possiamo iniziare Andiamo Ok ragazzi Mi sono messo in costume Adesso direi di riempire la vasca Ovviamente Ok ragazzi Siamo qui pronti Con la vasca piena di gola Noi potremmo buttarci E stare qui Per venticolato Non ci riusciremo mai Per venticolato Per lo più stai Per venticolato Vedo ciò Ah è strano Sembra più duro Dico più denso Non è acqua Non è leggero La densità differente Che faccio Mamma Devi stare calma Salve Sono video di qualità Salve Quanti like per questo video? Ma io in 24 ore Cosa dobbiamo fare? Buongiorno Benvenuti al TG.com Dentro la Coca Cola Notizie ufficiali E fa talmente cagare C'era tutta censurata questa parte Senti come sei? Ma passi la cannuccia? La cannuccia Ma la passi la busta Prima che cade? Dai Che schifo Detto ciò Mamma Ci tocco Mamma Ci tocco Mamma Ciao Tutta la paia Tutta la testa Tutta la testa No 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 Al volo Al volo No 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 In fondo Ah i capelli In fondo Che stava con la mano bagnata Con la mano bagnata Si mi devi arrivare il telefono nuovo Giusto però Vi ricordate era a me che se faccio tagliare Ma la devi dare più forte Vabbè stacco la ripresa e ciao Ma subito Ma subito Mi sono innamorato di te A chi posso chiamare? A Francesco Al mio manager posso chiamare Amore mio Ok sto facendo 24 ore nella vasca da bagno con la cola cola Ah Ah ok Cazzo che figata No Ti guardo anch'io Ah Manager saluta Ma come sta andando? Cioè con cui? Perché? Non so cosa fare in teoria C'è una Non so se è a Betty Ok Un bagno Che te lo dice? Ciao Ciao Chris Salve In un bagno di Coca Cola sono Ma come? Parla Sto accettando che ti devo dire Fai cavolate sul cavolate Posso presentarti la mia nuova ragazza? Sì Ti sento Che bella Una bella pesciolona Tranquilla non capisci nulla Almeno tu mi capisci E soprattutto quando ti racconto una cosa Devi sempre l'acqua in bocca Almeno tu Senti io ho bisogno di Oh oh Come mi segue? Come mi segue? Come mi segue il pesciolino? Come mi segue? Guarda Guarda dove mi segue Non mi si stacca Adesso siccome mi devo prendere un telefono Il Va bene Non lo dico più Scusa Siccome mi devo prendere il telefono Il Samsung Galaxy S9 Andiamo su Amazon E andiamo a prendere Andiamo a prendere una bella cover Mamma Devi stare calma Se compro qualche cover No l'altro No l'altro Andiamo a prendere A uova Mattio Sando No Dicevamo Ma possibile che per l'esterno Me non ci siano tutti Se dovrebbe Tranquillo Mettila in acqua Tanto Ma sta vogliando Stavolta Sì Io mi sto addormentando Tieni Ciao Sputa Coca-Cola Che schifo Che schifo Io lo dovo diria Ok cover scelta Dolora Champagne Ora Oh Grazie per il tuo ordine È stato ricevuto Non mangi? Rispondimi Che ti serve? Mamma mi cucini la cena? Ma completamente Dai Ciao No mamma Mamma Ma la stai cucinando No No Per favore Mamma dai Bevi Dai Ma che vuol dire Bevi Dai ma Sono tutti zuccheri Hai voglia Va bene Mamma per favore Sennemente Fammi qualcosa Anche poco Però basta me lo fare Grazie Pezzettino di pane Dai Tu ti stai a pane acqua Anzi a pane cocafone Ti muovi? Grazie No Ciao Ciao Vieni qua Vuoi? Vieni qua Kira Per quando non potrei stare così Fino a domani mattina Dammi che ho fame Allontana Kira Non è per te Dai Dai Te la dire te Dai No ho fame Dai Dammi Come ho Buono 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 Ma voi cosa deve bere Che me l'ho fatto No Me ne fai un'altra Ma Cosa? Ma ora non diventa di qualche cosa Perché l'acqua Vero Eh con l'acqua fredda No con l'acqua Eh che vuol dire Ciao Oh la vado a fare l'hai fatta Ah L'ho fatto da mettere a reale A cosa? A forse Ancora c'è il piatto Ancora qualche piatto No non gioco a dormire qua E' scomodissimo Il torcicolo No 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 Sai che ti dico Non ce la faccio No non ce la faccio Dai Mi sta prendendo tutto Ti giuro mi sta prendendo Non so per quale Guardi che sono nel sito E' oggi pomeriggio Un primo pomeriggio Fino a sera tarda Alle 4 Eh ma tu cos'è stato 4 5 6 7 8 10 11 12 Hai 8 ore Sei rimasto Guarda Guarda Tutto rosso sono Guarda Ma che Ok con l'acqua Il mio fratello Mi sta piccolissimo E sto mangiando di freddo Non sono riuscito a fare questa challenge Però non so per quale motivo Sono tutto rosso Detto ciò ragazzi Sperché mi sono riuscito E' tardi Alla fine Alla fine anche se non sono stato 24 ore Mi sono Praticamente non so per quale motivo Mi sta prendendo ovunque Tutto il corpo Infatti adesso non so Cosa Farò non so se fa male Non so Non ne ho idea Per il video In descrizione Trovate ovviamente anche Instagram Detto ciò ragazzi Vi mando un grosso bacio Noi ci vediamo presto Per un nuovo video Qui come sempre Il vostro trade E' tutto Bella